Tim Shadok, marinaio australiano di 51 anni e il suo cane Bella erano partiti in aprile dal porto messicano di La Paz, nella Baja California, diretti in Polinesia francese. Ma dopo tre settimane di navigazione, il catamarano è stato colpito da una violenta tempesta che ha completamente danneggiato l'imbarcazione. L'uomo ha poi raccontato di essere sopravvissuto dividendo con il suo cane pesce crudo raccogliendo acqua piovana e riparandosi dal sole sotto ad un tendone. Il marinaio e il suo cane ora sono in viaggio verso il Messico su un peschereccio con cabina, bagno e tutte le comodità e per cena ovviamente solo pesce crudo.